E' lo sbarco più consistente che si è registrato in provincia di Siracusa, quello avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi. Si tratta di 254 migranti. L'allarme è scattato nella mattinata di sabato, quando a circa 100 miglia d'est dalla costa siracusana è stato intercettato un barcone stracarico di profughi. I soccorsi sono scattati immediatamente, quando il barcone lasciato alla deriva era a 150 miglia sud-est di Portopalo di Capopassero. Tutti i migranti sono stati soccorsi da tre motovedette della Capitaneria di Porto, giunte da Siracusa, Pozzallo e Catania. Al momento dell'arrivo dei mezzi, il peschereccio stava imbarcando acqua. Tutti gli immigrati che hanno dichiarato di provenire dalla Siria e dall'Egitto sono stati trasbordati nelle motovedette a bordo delle quali hanno raggiunto il porto grande di Siracusa intorno all'una di notte di domenica scorsa. Si tratta complessivamente di 117 uomini, 94 minori e 43 donne, alcune delle quali sono state ricoverate in ospedale perché in avanzato stato di gravidanza, ad accogliere i migranti volontari della protezione civile che li hanno poi accompagnati nei centri di accoglienza del capoluogo Aretuseo.